Ok, ciao, oggi siamo al robot ristorante, al ristorobot, funziona così, c'è il tavolo, c'è il cosino per cucinare tipicamente giapponese e c'è un touchscreen dove si ordina, si ordina le cose da cucinare, adesso vi facciamo una prova, ordiniamo questo che è la carne, diamo l'ok, order to robot, adesso l'ordine è passato di là in cucina al robot, l'istante funziona così, a buffet, 449 baht è la formula base e si sale fino a 579 baht circa, la cosa particolare è questo robot che adesso sta per arrivare perché abbiamo inoltrato l'ordine, qui abbiamo una feritoia dove si prende un passo a cibo, ancora non arriva, sta preparando la comanda, inquadrami, in ristorante si trova rama 3, tra il sole 61 e il sole 63 è un po' difficile da trovare, è dentro una zona industriale, un po' difficile da trovare ma insomma, eccolo che forse arriva, no, eccolo, eccolo, guardate, 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 ecco la feritoia si alza, eccolo, ecco il nostro amico, il nostro amico che prima porta via la precedenza e contemporaneamente poi quando la via ci fa anche una specie di occhiolino, ciao caro, facciamo la feritoia si riabbaccia, guardate, facciamo la feritoia si riabbaccia e ci permette di prendere comodamente tutto, basta innanzitutto